35 minuti con il forno a 150 gradi. Grazie, Karen, ma... È solo la mia lasagna messicana? Grandiosa. Non riesco a immaginare cosa stai passando. È come se Jeff venisse investito da un'auto e morisse tragicamente all'improvviso. Sto così. Giusto, mi ridarai la teglia quando puoi. Benvenuti ad Amici del Paradiso. Ci sono delle persone nuove. Io sono Judy. Jenny. Ti sembrerà strano? Posso abbracciarti? No. Va bene. Ho perso il mio fidanzato due mesi fa. È stato improvviso. Da quando Ted è morto non dormo più. Non in modo naturale. Ehi! Sono sempre sveglia, quindi chiamami pure. Possiamo non dormire insieme. Ciao! Si sveglia? È lui? No, è l'altro marito. Ne hai un altro? Sei a posto? Sei a letto? Cosa indossi? Dei pantaloni sportivi. Oh, più lenta. Eh? Tu sei strana, Judy. Lo fai spesso. Quando vedo una maccatura grande come una persona sul paraurti. Dove essere dura stare in quella casa senza stile. La dependenza è libera. Sono felice che sì. Ragazzi, lei è Judy. Ciao. Papà è qui! Pensa che l'uccello sia suo padre morto. Forse lo è. Certo. È soltanto strano che tu stia lì. Cosa? Non la conosci nemmeno. Potrebbe essere una pazza. Cerchiamo Judy Hale. Perché cercate Judy? Ovunque Judy vada, il caos la segue. Una specie di gioco a cui stai giocando. C'è un sacco di merda che non conosci. Il dolore ti fa fare cose brutte. Ma io ti conosco. Tu sei buona. Pazza o no. Hai invitato una criminale violenta a casa tua. È l'unica persona a starmi vicino. L'unica persona che non mi fa sentire che sono un fallimento. Rallenta! Corri per la città come un vigilante ubriaco. Fa un culo! Cazzo, io ti amo. Mi manchi, amore. Volevo solo dirti... Ok, bene. Ci ho provato, vaffanculo anche a te.